L'intrepida velista francese Anne Kemmeret ha iniziato il suo viaggio in solitaria attraverso l'oceano Pacifico, partendo da Callao in Peru su una piccola barca aquilone verso Tahiti. Invece di utilizzare una vela collegata ad un albero, la Kemmeret potrà contare su un grande aquilone attaccato a delle semplici corde per spingere la sua barca attraverso l'oceano. Anne stima che il viaggio di circa 7700 chilometri potrebbe durare fra i due mesi e due anni e mezzo, a seconda del vento. La 44enne avrebbe voluto partire domenica, ma non ha potuto farlo a causa di problemi amministrativi. Poi un secondo tentativo è andato a vuoto martedì, a causa della mancanza di vento. Ora finalmente ha preso il largo per la sua nuova impresa.